buon suor ragazzi ho dovuto rimandare un po' che stavo un tantinello in ritardo ero andato a ritirare la macchina dal meccanico e ci hanno messo tre ore per restituirmela però eccoci sempre presenti anche perché come sapete mi diverto molto a fare queste tipologie di dirette la sto facendo direttamente da casa perché non facevo in tempo ad andare fino all'ufficio quindi aspettiamo qualche minuto dopodiché iniziamo con le domande che mi avete fatto come sempre molto interessanti mettiamo questo un po' più lontano, scusate nel frattempo come sapete nel frattempo che io rispondo alle domande che già mi sono state fatte se volete scrivetemela com'è andata con il mediatore dell'albergo? è andata che innanzitutto mi sono un po' alterato nel senso che gli ho detto che non ho piacere nell'aspettare le persone e però vabbè business is business e quindi ho comunque portato avanti questa chiacchierata gli ho dedicato poco tempo adesso aspetto che mi mandino la documentazione e inizio a valutare così a primo impatto sembra interessante l'albergo i due alberghi di cortina che mi hanno proposto hanno una richiesta meno della metà rispetto al primo che valutavo e hanno gli stessi metri quindi comunque sono interessanti buonasera a te aspettiamo ancora un po' buonasera Federico buonasera ragazzi, buonasera a tutti avete fatto delle domande? non le ho pubblicate tutte non risponderò a tutte perché erano davvero tante e ovviamente le seleziono un po' alla volta quelle troppo specifiche ce ne sono state alcune sugli crediti UTP e i crediti NPL su quei due argomenti dovrò fare una diretta specifica perché richiedono un po' di tempo quindi non li tratteremo oggi però a breve organizzo una diretta specifica per queste cose le domande a cui rispondo sono nelle storie che ho pubblicato sono 10 domande io rispondo a 10 domande per ogni diretta chiaramente perché do anche la possibilità a coloro che non mi hanno fatto le domande sulla storia di farmeli qui in diretta quindi prima di iniziare ancora 30 secondi io adesso risponderò a queste 10 domande ogni tanto, ogni 2-3 domande mi fermo, leggo le domande che mi state facendo in diretta o le considerazioni che mi state facendo in diretta e vi rispondo, ok? allora, principalmente le domande di oggi trattano di immobiliare, di aziende quindi come creare attività da zero perché mi fate domande del genere e qualcuna anche di attualità dunque, la prima domanda alla quale volevo rispondere è come capire il reale valore di un immobile dunque, io ho fatto un corso ho tenuto un corso sulla speculazione immobiliare che praticamente trattava proprio questo argomento cioè come faccio a capire veramente quanto è il valore di un immobile perché chiaramente il valore di un immobile non è quello che mi chiedono quella è la richiesta non è quello che può fare un perito quindi una perizia ma è il valore che ha per me per quello che io devo fare chiaramente poi io faccio un'offerta può essere accettata come può essere rifiutata però quella è il valore che ha chiaramente per me per quello che io devo fare ad esempio, ad esempio veloce l'albergo, il primo albergo di cortina che mi hanno proposto loro mi chiedevano 28 milioni per me quell'albergo aveva un valore di 18 milioni massimo e quindi chiaramente se per loro il valore era 28 in base alle loro chiaramente valutazioni per me era 18 in base alle mie valutazioni io l'ho fatto un'offerta a 18 loro non l'hanno accettata e quindi siamo a posto così amici come prima però quindi innanzitutto il valore di un immobile è il valore che noi diamo per ciò che noi ci vogliamo fare ho fatto l'esempio dell'albergo perché? perché è inutile dire che un albergo abbia un valore al metro quadro in realtà l'albergo vale ciò che rende se un albergo come quello fatturava 2 milioni è inutile che me ne chiedi 28 per l'immobile come faccio a capire il reale valore di un immobile? innanzitutto devo capire che cosa devo farci con questi immobili quindi se vado a fare un albergo avrà un valore in base a quello che può essere la sua redditività se vado a fare degli appartamenti ha un valore in base a quanto è il ritorno sull'investimento che io posso fare quindi quant'è il valore di vendita considerando anche che il valore di vendita non è quello che vado in agenzia e lo chiedo dipende anche molto da quanto tempo io ci voglio mettere per vendere l'immobile cosa ti voglio dire se io compro un immobile voglio vendere gli appartamenti il mercato dice che gli immobili in quella zona valgono 2000 euro al metro quadro se io mi metto a 2000 euro al metro quadrato posso metterci X tempo se io invece li metto magari al 20% in meno ci metterò un tempo inferiore quindi il guadagno sarà sì inferiore ma nel minor tempo possibile quindi non c'è una regola fissa su come capire il valore reale dell'immobile ma è una serie di variabili che partono prima di tutto da qual è l'obiettivo dell'acquisizione di questo immobile me lo tengo se è un immobile che io voglio comprarmi per andarci ad abitare il valore è relativo nel senso che quello che mi chiedono insomma è il valore di mercato se io devo farci una speculazione immobiliare sopra quel valore dell'immobile dipenderà da alcune variabili che io ho trattato nel corso che sono ad esempio la presenza di numerosi immobili in vendita o la scarsità di immobili in vendita insomma ci sono alcune variabili che vanno considerate chiaro è che non è semplice affrontarle tutte in una diretta però dipende innanzitutto da qual è l'indirizzo l'obiettivo che deve avere questa operazione dipende da facciamo finta che sia residenziale dipende da quanti immobili in vendita ci sono su quella zona dipenderà da quanto mi costa ristrutturarlo o se non va ristrutturato e dipende anche da quanto tempo in quanto tempo penso di chiudere l'operazione quindi principalmente le variabili sono tre quindi il prezzo di mercato io considero il prezzo di mercato il tempo che credo che ci metto per chiudere l'operazione e il numero di immobili in vendita nella stessa zona seconda domanda quali sono i maggiori accorgimenti da fare prima di acquistare un immobile o comunque di fare un'operazione immobiliare questa è una domanda molto simile a quella precedente diciamo che ho risposto rispondendo a quella di prima ho risposto anche a questa di adesso voglio aggiungere solo che gli accorgimenti da fare a mio parere sono considerando che parliamo solo di un'operazione in speculazione immobiliare residenziale il discorso da fare cioè che io faccio chiaramente è vado a vedere in quella zona quanti immobili ci sono in vendita questo perché se ce ne sono molti siamo molto in concorrenza quanto vendono gli immobili in quella zona e quanta possibilità ho io di abbassare il prezzo quindi senza che mi ripeto troppo sullo stesso argomento insomma la domanda è simile a quella precedente terza domanda come faccio a svolgere una corretta analisi di convenienza economica di un'operazione qui non mi viene specificato se se si parla di un'operazione immobiliare o un'azienda io per quanto riguarda le operazioni immobiliari prendo queste tre variabili che vi ho detto che sono quindi il prezzo il tempo e il numero di immobili presenti in invece per quanto riguarda le aziende io valuto la possibilità di sviluppare l'azienda la possibilità di quotare in borsa l'azienda e la possibilità di creare business simili o alternativi attraverso l'acquisizione dell'azienda leggo un po' di domande che mi state facendo e vedo che vi state un po' scaldando allora Giulio dell'Italia dunque c'è una formula consideri ROI di investimento certo considero ROI sicuramente perché ROI è per chi non lo sapesse il ritorno sull'investimento cioè se io investo un euro e vendo a un euro e cinquanta quei cinquanta centesimi sono il ritorno sull'investimento quindi ho investito un euro ho fatto cinquanta centesimi di utile il ROI sarà il 50% altra domanda che mi hai fatto ci deve essere una formula lo hai detto tanto non hai detto nulla allora caro Giulio tu sei quello che l'altro giorno mi ha fatto la domanda di dimostrare un di dimostrare il mio successo no? allora adesso io ti rispondo dato che stai facendo un po' lo spocchioso un po' il fenomeno chi definisce quanti sono molti o quanti sono pochi io faccio delle operazioni immobiliari e compro delle aziende io ho dei parametri tu avrai altri parametri se sei un imprenditore altre persone avranno altri parametri io chiaramente ho fatto un corso immobiliare di due giorni ho parlato per due giorni ho dato i parametri chiaramente in base a due giorni di valutazioni così in una diretta in cui io devo rispondere a dieci domande in più devo perdere tempo a leggere le cose che mi scrivono gli altri ragazzi tipo te che mi stanno semplicemente stuzzicando quindi non posso entrare troppo nel dettaglio allora io ti rispondo ti dico sì certamente mi serve il ROI ma il ROI chi lo decide lo decidi tu assolutamente no il ROI dipende da quanto è il tempo nel senso facciamo un esempio io compro un immobile a 100.000 euro e lo voglio vendere con un ROI del 100% cioè voglio raddoppiare che cosa succede che io magari ci metto 4 anni per raddoppiare il capitale benissimo ho fatto un'operazione ho raddoppiato ma ci ho messo 4 anni se io invece Lorenzo faccio un'operazione a parità stesso identico capitale io vendo però faccio solo il 50% di ROI quindi vendo compro a 100 e vendo a 150 lo faccio in un anno quei 150 li reinvesto in un'altra operazione e ci metto 3 anni in 2 anni in 4 anni tu hai fatto un'operazione e hai raddoppiato io dico faccio due operazioni in 4 anni e ho fatto il 200% di ROI quindi il ROI è relativo dipende da che tipo di operazione noi vogliamo fare da quanto tempo ci mettiamo da quanto bene riusciamo a comprare l'immobile da quanti sono i costi di ristrutturazione da quanto sono i costi amministrativi quindi non è un discorso che può essere affrontato in 2 minuti io vi sto dando dei parametri generali poi vogliamo fare una diretta solo ed esclusivamente sull'immobiliare la possiamo fare ci sono i corsi speculazione immobiliare che hanno fatto 8 ragazzi sono venuti abbiamo fatto due giorni esclusivamente nella speculazione immobiliare e quindi loro hanno imparato i parametri per valutare l'operazione se se tu pensi che io stia sbagliando non è un problema non è un problema mio io sono un imprenditore ho un fondo di investimento da centinaia di milioni di euro quindi non credo che debba imparare ancora cosa sia un ROI detto ciò se non pensi che io sia una persona in grado di rispondere puoi anche uscire dalla diretta scusatemi ragazzi allora andiamo avanti cosa valuto io per investire su un progetto allora io ho chiesto in privato al ragazzo che mi ha fatto questa domanda che cosa intendesse e lui non intende un progetto immobiliare ma intende un progetto in genere allora io che cosa che cosa valuto valuto innanzitutto la serietà della proposta che mi ha fatto cioè non intendo se tu che me lo proponi sei serio o non sei serio intendo dire che una proposta presentata in un certo modo con dei numeri concreti dei documenti concreti reali delle situazioni già esistenti sono sicuramente valutate in maniera più positiva altra cosa che io posso che io valuto per investire su un progetto sicuramente la redditività redditività che però non è obbligatoriamente una delle condizioni in quanto cioè può anche succedere che io investa su un'attività che ha una redditività inferiore magari nel breve tempo ma io magari credo che quella operazione può prendere un grosso può avere un grosso sviluppo nel passare del tempo potrebbe essere anche che io compro un'azienda o investo in un progetto perché magari è complementare ad un'altra azienda o ad un altro progetto che io ho quindi cosa valuto io per investire su un progetto in generale non è una domanda molto specifica è molto semplice alla quale rispondere per quanto riguarda l'immobiliare ve l'ho già spiegato per quanto riguarda l'azienda ve l'ho detto io se è un'azienda grande valuto l'opportunità di sviluppare quindi aumentare il fatturato mediante modifiche non troppo impegnative sull'azienda stessa e sull'attività principale dell'azienda e valuto la possibilità di quotare e imborsare l'azienda stessa se invece parliamo di un'azienda più piccolina io valuto la capacità nel tempo di moltiplicare il proprio valore sviluppando l'attività stessa questo succede nelle start up se parliamo dell'immobiliare ve l'ho già spiegato valuto il tempo il prezzo di acquisto che a mio parere deve essere inferiore cioè uguale o inferiore al 25% del valore di mercato dell'immobile stesso cioè se l'immobile viene venduta a 2000 euro al metro quadrato io compro massimo a 500 euro al metro quadrato devo chiudere l'operazione in 36 mesi massimo e devo avere o numerosi immobili nuovi di nuova costruzione perché io poi mi vado a mettere a un prezzo inferiore di quegli immobili che significa che è una zona di sviluppo oppure deve avere pochissimi immobili in vendita su quella zona e che significa che non avrò molta concorrenza altra domanda un ragazzo mi dice io ho un'idea di business che cosa faccio contatto un'azienda già avviata e glielo propongo o parto da zero in proprio dunque dipende che cos'è la tua idea di business se è un'idea di business che riguarda magari un brevetto un prodotto una cosa del genere potrebbe essere buono già andare da un'azienda già avviata se invece è un'attività che già esiste che non è brevettabile ma che comunque tu pensi che possa essere remunerativa se hai un capitale ti consiglio sempre di metterti in di metterti in proprio sesta domanda qual è la tua migliore operazione immobiliare parlano chiedono a me direttamente qual è la mia operazione immobiliare migliore analizzandola per semplicità e per profitto allora la mia migliore operazione è l'operazione che ho fatto che vi ho raccontato anche nella diretta e che sta sulla mia instagram tv nonché sul mio canale youtube per chi non lo sapesse io ho un canale youtube andate su youtube scrivetelo lo scarsella iscrivetevi lì ci sono salvate tutte le mie dirette la mia operazione immobiliare migliore è stata un'operazione che io ho chiuso con pochissimo capitale operazione che io ho fatto girata con un costruttore in permuta per farmi fare i lavori sugli appartamenti e che ho fatto un ROI del 300% cosa significa l'operazione della scuola vi ripeto non posso spiegarvela tutta da zero perché non ho tantissimo tempo da fare e devo rispondere a tutti quanti però ho una diretta intera è stata già fatta su questa operazione è un'operazione di una scuola che io ho comprato tramite la banca che insomma stava facendo un po' un casino da una società ho fatto causa alla banca ho vinto la causa ho preso l'immobile l'ho pagato una stupidaggine ho trasformato la scuola in residenziale ma urbanisticamente già era la destinazione d'uso già erano appartamenti i lavori non li ho pagati i lavori me li sono fatti fare da un costruttore gli ho dato in cambio delle permute gli ho dato degli appartamenti gli ho dato il 50% degli appartamenti l'altro 50% è rimasto a me l'ho venduto e ho quadruplicato l'investimento che ho fatto quindi ho fatto il 400% del ROI come dice il nostro professore amico che oggi stava facendo un po' il fenomeno settima domanda quali sono i tre settori più remunerativi che un ragazzo può affrontare partendo con poca esperienza e poco capitale allora questa è una domanda abbastanza complessa dunque l'esperienza chiaramente si fa a lungo andare quello che però è importante che tu abbia delle competenze se tu non hai competenze non hai esperienze non hai capitale io ti inviterei ad iniziare con una delle tre quindi l'esperienza non si può comprare il capitale se non riesci a farlo aspettiamo ma quello che tu puoi sicuramente fare anche partendo da zero è ampliare le tue competenze su quale settore io ti consiglio di investire oggi e soprattutto di iniziare a farti delle competenze sicuramente io ti consiglierai il settore immobiliare perché a me piace molto e perché mi ha dato ottimi risultati sicuramente ti consiglierai il settore dei servizi agli anziani perché è un settore che si svilupperà tanto e crescerà nei prossimi tre anni credo del 42% se non sbaglio che sono dei numeri enormi ti consiglierei di iniziare da subito ad avere delle competenze per esempio sul digitale ma non sul digitale come lo intendono tutti cioè marketing digitale e-commerce eccetera ma sulla borsa digitale io non mi definivo un imprenditore digitale fino ai primi di novembre da novembre in poi ho iniziato a scoprire la borsa digitale oggi sarò uno dei primi se non addirittura il primo ma non voglio dirlo perché non vorrei sbagliarmi in Europa ad avere una società con delle obbligazioni quotate sulla borsa digitale quindi sono diventato un imprenditore digitale assolutamente sì ma non come si intende diciamo più frequentemente quindi i tre settori più remunerativi che io ti consiglio oggi sui quali tu devi specializzarti e avere delle competenze sono probabilmente l'immobiliare sicuramente i servizi degli anziani e sicuramente la finanza digitale domanda numero 8 cosa ne pensi delle attività in franchising dunque ti dico subito cosa ne penso per aprire un'attività in franchising ti serve sicuramente un capitale iniziale e potrebbe essere una buona attività ma la mia domanda è e ti faccio pensare perché se ho del capitale da investire devo aprire un'attività in franchising nella quale chi guadagna in realtà è sempre il proprietario del marchio e io guadagno sempre una fetta molto piccola perché non mi apro un'attività mia propria senza aprirla in franchising il franchising può essere una cosa buona ma di sicuro non sarà quell'attività che ti farà fare il salto di qualità e guadagnare tanti 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 soldi quanti io spero e vi auguro di guadagnare questa la nonna domanda è una domanda più di attualità è una domanda che voglio dedicarci qualche minuto in più come penso che si riprenderà l'economia post coronavirus allora innanzitutto vorrei dire una cosa ci sta un po' sfuggendo di mano la situazione con questo coronavirus non voglio fare il moralista non voglio fare il qualunquista assolutamente è una cosa che va affrontata è stata affrontata in maniera a mio parere un po' esagerata non tanto dalle amministrazioni quanto dai media quindi dalle televisioni e dai giornali è sicuramente una malattia che non è grave ma ha un alto tasso di contagio non so come si dica cioè ci si contagia in maniera molto veloce e si espande in maniera molto veloce chiaramente bisogna stare attenti bisogna prendere delle precauzioni ma da quello che io ho capito ho sentito e mi sono informato è un poco più o poco meno di un'influenza insomma diciamo che non siamo tutti a rischio di morte quindi diamo il giusto peso innanzitutto a quello che è la malattia l'economia purtroppo l'economia ma soprattutto credo più che l'economia la finanza perché in realtà l'economia diciamo che si è chiusa adesso se no una settimana che sono chiuse le attività quindi diciamo che una settimana o 15 giorni nell'arco di un anno non è che vanno ad avere una così grande perdita nell'economia italiana quello che è stata una brutta botta è stata l'altro giorno quando la borsa italiana l'indice italiana ha perso il 5,43% ma si sta già sviluppando sta già si sta già riprendendo chiaramente non è la catastrofe non è la perdita di di chissà quanti miliardi di euro per tutti quanti noi cittadini io sto lavorando come sempre tutti i giorni senza alcun problema so che al nord avete parecchi problemi in più me ne sto accorgendo da miei vari amici clienti consulenti e quant'altro però come penso che si riprenderà l'economia l'economia italiana si è sempre ripresa noi italiani siamo un popolo che nonostante ci lamentiamo nonostante ce ne freghiamo molto delle cose perché a differenza degli altri stati guardate quello che magari è successo con i gel e gialli o quello che è successo a Barcellona con l'indipendenza insomma noi non siamo un popolo che va per strada e fa casino per un mese intero noi facciamo più l'importante che sto bene io e poi quello che succede agli altri non me ne frega un cavolo quindi come sempre l'economia italiana si riprenderà non ci dimentichiamo che siamo il paese nonostante tutto siamo il paese che ha uno dei più alti tassi di depositi in banca cioè noi siamo un popolo che risparmia molto e lascia molti soldi in banca questo perché sempre per colpa dei media che ci hanno terrorizzato questa crisi non nego che c'è stata una crisi non nego che su alcuni settori ancora c'è ma non dobbiamo negare che su alcuni settori c'è stata una grossa ripresa che ci sono stati creati dei settori che prima non esistevano pensiamo al settore digitale dieci anni fa non esisteva oggi è un settore che va fortissimo il settore degli anziani sta in sviluppo il 30-40% ogni anno il settore dell'immobiliare non tornerà più come era una volta ma semplicemente perché era troppo drogato in quel momento ma è comunque un settore che oggi ci può dare dei risultati interessanti e positivi ci sono altri settori che stanno andando comunque bene ora c'è un po' di difficoltà per questo coronavirus rimbocchiamoci le maniche non perdiamo la nostra grinta il nostro spirito di iniziativa sicuramente tutto tornerà come era e spero nel più breve tempo possibile leggo qualche domanda o qualche cosa che mi state scrivendo allora vado un po' indietro no non c'è nulla allora Vinci grazie del consiglio Lollo intanto io avevo aperto una mia catena di negozi in franchising un po' progetto poi Renato sì una tua catena di negozi in franchising va bene ma io pensavo che tu intendessi che tu prendessi non so faccio un esempio stupido un negozio di calzedonia se tu invece sei il tra virgolette calzedonia allora sì assolutamente sì guadagni i guadagni sono sicuramente interessanti se hai un business che può funzionare con il franchising allora cambia un po' la risposta che ho dato prima cosa penso io delle attività in franchising se sei tu che vuoi creare un'attività e la vuoi dare in franchising sì quello che è importante però che tu prima crei un'attività ti diventi forte il tuo brand diventa forte e riconoscibile a quel punto puoi utilizzare il franchising in caso diverso cioè aprire subito un'attività e creare subito dei franchising sarebbe un po' troppo complicato perché il tuo brand ancora non è un brand forte e riconoscibile Giulio dell'Italia cosa ne pensi di investire in oro o altri metalli preziosi allora come avete visto non so se lo avete notato con appena uscita la notizia del coronavirus l'oro è schizzata le stelle l'oro è sempre un bene rifugio quindi noi italiani tendiamo a comprare l'oro quando abbiamo qualche problema vabbè nel frattempo compriamo l'oro che è sempre uno dei beni rifugio io non ho un vestito chissà che cifre nell'oro a me piace fare l'imprenditore non mi piace che gli altri facciano le cose al posto mio io ho che comunque diciamo non sono il primo attore di me stesso il primo attore del film quindi non sono io che gestisco i miei soldi e gestisco le mie attività quindi non credo molto nel nel bene rifugio sì potrebbe essere una parte che l'oro potrebbe essere interessante come bene ripeto come bene rifugio non credo di specularci milioni di euro ogni nel breve termine ecco quanto meno sicuramente meglio investire probabilmente meglio investire nell'oro che tenere i soldi fermi in banca oggi magari no perché ha schizzato molto alle stelle però non lo so non è uno dei miei investimenti preferiti super dry cosa si intende nello specifico per settore immobiliare drogato allora che cosa intendo per settore immobiliare drogato fino a qualche anno fa parecchi anni fa era molto semplice prendere i mutui questa cosa che era molto semplice prendere i mutui che cosa significa che chiunque andava a comprarsi casa e se chiunque andava a comprarsi casa significa che c'era molta domanda e se c'è molta domanda i prezzi salgono e se i prezzi salgono i prezzi salgono i prezzi salgono sempre più gente la gente deve prendere i mutui sempre più alti poi non riesce non riesce a pagarli ed ecco come ci ritroviamo quindi per settore drogato intendo che non credo che oggi si ritorni più al periodo in cui venivano erogati i mutui molto facilmente quindi non credo che si ritorni più a una così grande richiesta così grande domanda di immobili quindi non credo che i prezzi possano tornare a quelli che erano una volta questo sta succedendo a Milano se vuoi andare a Milano nelle zone più nuove per esempio Porta Nuova io stavo cercando degli appartamenti da prendere non sono riuscito a trovare nulla a prezzi interessanti ci sono dei prezzi esorbitanti perché? perché c'è molta richiesta e poca offerta quindi questo è un mercato drogato non credo che si ritornerà più quantomeno in tutta Italia a un mercato così drogato ci sono alcune zone per esempio Milano che il mercato invece è ritornato a essere drogato anzi forse ancora più di prima Federico io mi sono buttato nel settore dell'estetica e parrucchieri avere un negozio di rivendita prodotti per quelle categorie cosa ne pensi? allora non sono ferratissimo su questo argomento ho un conoscente che c'è che sta all'interno del settore del settore dei parrucchieri cioè nella vendita dei prodotti per parrucchieri e so che guadagna molto credo che sì è un buon settore perché a me sembra che tutti i parrucchieri siano sempre pieni che aprono tantissimi i parrucchieri perché non è un lavoro così difficile che i parrucchieri soprattutto sono molto cari perché è la verità per fare i capelli ormai ci sono dei posti in cui si paga 15-20 euro ma ci sono dei posti allucinanti cioè io sono andato a Milano una volta con la mia ex ragazza mi ricordo pagare tipo 100 euro una piega andare a fare la barba io la barba vado da qua di Parma pago 35 euro ogni volta mi faccio la barba quindi insomma sì potrebbe essere un settore sicuramente interessante anche per l'estetica Domenico cosa ne pensi del mondo della telecomunicazione allora il settore della telecomunicazione sì potrebbe essere interessante non lo conosco bene non l'ho mai approfondito non saprei da dove iniziare per fare un'azienda di telecomunicazioni quindi non so purtroppo non so darti un consiglio non so darti un mio parere e questo mi dispiace se però iscrivi in privato io questa domanda me la studio un po' mi studio un po' l'argomento e poi ti do una risposta molto volentieri purtroppo ragazzi purtroppo per fortuna non posso sapere tutto e non faccio il tutologo una cosa che mi contraddistingue e sempre mi contraddistinguerà è il fatto che io non utilizzo non prendo argomenti di cui non so parlare e non so trattare non conosco il settore delle telecomunicazioni e quindi non so cosa dirti devo essere onesto e alzare le braccia qualcuno ha qualche altra domanda? ah scusate c'era l'ultima domanda l'ultima domanda era se spiegavo un po' la questione di come sta andando Capitals e come saranno le obbligazioni e la quotazione sulla borsa digitale allora dunque il le obbligazioni le sto emettendo stiamo andando avanti emetterò 100 milioni sinceramente vi dico che questa è una diretta un po' complessa da fare perché è un argomento abbastanza complicato quello delle obbligazioni e della quotazione comunque se il ragazzo che me l'ha fatta e ti è interessato ti mando una mail con tutto quanto il riassunto di questa cosa qua leggo altre po' di domande dunque ciao Thomas che ne pensi del coronavirus guarda ne ho appena già parlato tu sei entrato adesso penso che si sta un po' esagerando penso che va va affrontato con la consapevolezza di ciò che è ossia una malattia abbastanza blanda che ha come problema solo ed esclusivamente il fatto che si disperde insomma che ha un alto tasso di contagiosità però non è una malattia che è mortale che sta facendo milioni di morti fa migliaia di morti ma semplicemente perché ci sono centinaia di migliaia di casi e poi le persone che stanno morendo poverine è perché magari avevano già qualche problema precedentemente quindi non creiamo tutto questo allarmismo Agnello Palma anzi no scusa Edo Cariol cosa ne pensi dell'e-commerce dunque dell'e-commerce penso che è un 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 mezzo che ti permette di raggiungere un fine cioè ti permette di raggiungere dei clienti che senza e-commerce non saresti potuto riuscire a raggiungere ma quello che è importante non è tanto l'e-commerce quanto il prodotto che tu vai a vendere l'e-commerce se hai un prodotto forte l'e-commerce ti darà sicuramente una grossa mano per raggiungere più clienti possibili Agnello Palma ciao io sto per avviare una stileria industriale che ne pensi calcolo che sono una zona che offre molto lavoro su questo campo ti sei risposto da solo se stai in una zona che ha molta domanda di molta domanda nel settore della lavanderia della stileria tu stai creando offerta bravo ben venga e Don Perignon posso investire quanto voglio in Capitals assolutamente sì le azioni purtroppo sono diciamo quasi terminate ne sono rimaste pochissime perché coloro che avevano la prelazione mi hanno già mandato le mail per ordinare le azioni per coloro che non sono venuti ai miei corsi e non hanno la prelazione credo penso che la prossima settimana aprirò le vendite per tutti quanti e se c'è rimasto qualcosa sì le potete comprare le azioni minimo investimento 250 euro per quanto riguarda le obbligazioni sono tra poco tra circa una ventina di giorni sono pronte ci sono 100 milioni di obbligazioni emesse ne potete comprare quanto volete a partire da 1 euro Alessandro cosa pensi sulla vendita porta a porta di servizi luce casa telefonia e fibra per quanto riguarda il settore della vendita credo che sì dunque riformuliamo un attimo la situazione ok allora che cosa ne penso penso che il settore delle vendite in generale abbia un forte abbia un forte impatto nel settore delle vendite porta a porta quindi il carisma della persona che va a vendere quindi sì chiaramente ci sono tanti altri modi per raggiungere tante altre più persone per quanto riguarda il servizio di luce gas e fibra amico mio non lo vedo un settore molto positivo nel senso come vendita perché ci sono tantissimi call center eccetera eccetera forse il porta a porta potrebbe essere sì una cosa migliore sicuramente del call center che rompono le palle a tutti gli orari Marin cosa ne pensi del settore ufficio di collocamento per lavoro dunque ufficio di collocamento per lavoro nè nel senso che sì io avevo un interinale quindi è un settore che va il settore interinale il settore delle cooperative non mi piace minimamente perché è un settore molto sporco il settore dell'interinale sì ma ci vuole un alto capitale per un grosso capitale per iniziare perché ci vogliono 600.000 euro di capitale sociale interamente versato e 350.000 euro di deposito per ottenere la licenza quindi devi partire già con un milione di euro in tasca e-commerce sul settore forniture ristorazione bar potrebbe funzionare potrebbe funzionare la cosa importante mi raccomando è la comunicazione cosa importante sulla comunicazione soprattutto nel digitale affidatevi a un'agenzia seria e non ai charlatani che girano su instagram andrea stroppi sei un grande di secolo dalle maldive vai ad te andrea io non sono invidioso ti auguro una magnifica vacanza come te lo augurano tutti quanti quelli che sono qui in diretta anzi fatti un bagno pure per noi e mandaci una foto e taggami che fammi un po' rosicare noi siamo qui a Roma e lavoriamo mi raccomando seguici sempre ragazzi allora io ho risposto a tutte le domande che mi avete fatto vi ringrazio a tutti quanti io vado a cambiarmi vado a cena sono veramente veramente stanco oggi vi ringrazio a tutti diventate sempre di più vi mando un grossissimo abbraccio un grossissimo bacio e mi raccomando go big or go home vi ringrazio a tutti i nostri